Bene, grazie professor Rubichi. Ha portato l'attenzione, parlando dei giovani, su questo tema della dipendenza che lo si trova spesso come spauracchio nel nostro immaginario. Perché utilizzare gli strumenti, utilizzare le potenzialità della rete, quando poi si coniuga la rete con i giovani, si ha sempre paura di cadere ovviamente nella dipendenza. Quindi ora andiamo all'ultima relazione della mattinata, è la relazione di Matteo Iori che ci porta in un terreno specifico. Ed è il terreno, prosegue naturalmente il discorso delle complessità, ma ci porta sul tema del rapporto dei giovani in gioco, le tecnologie come appunto veicolo di dipendenza. Matteo. Bene, grazie. Allora, qui la situazione è drammatica. Come nelle migliori tradizioni delle ferrovie italiane abbiamo iniziato con un quarto d'ora di ritardo e adesso abbiamo superato l'ora. Quindi secondo me abbiamo due scelte davanti. Io faccio l'intervento che avevo preparato, che dura mezz'ora il mio tempo stabilito, oppure, e sono convinto di andare incontro a ciò che voi più preferite, vado molto velocemente passando le slide e cercando di sintetizzarle. Ma sicuri che comunque voi riuscirete a capire un pochino quello che voglio dirvi, anche perché alcune cose sono state anche dette da chi mi ha preceduto. Io vi parlerò quindi dei problemi. Parlerò dei problemi e del fatto che la tecnologia può effettivamente in qualche modo veicolare delle dipendenze. Quelle che generalmente in letturatura vengono chiamate come nuove dipendenze, nuove addiction. E all'interno delle nuove addiction che noi ritroviamo diverse delle forme di dipendenze collegate in qualche modo alla rete. che sono legate non a una sostanza chimica come può essere nel campo delle dipendenze alla sostanza, alcol, tabacco, eroina, cocaina, cannabis, eccetera. Ma l'oggetto della dipendenza diventa un comportamento. Quindi un'attività lecita, socialmente accettata, come giustamente ci diceva poco fa, che però diventa un comportamento che può portare patologie. C'è una cosa interessante nella lingua inglese che è una distinzione tra due termini, dependence e addiction, che uno indica una dipendenza fisica appunto da sostanza, mentre l'altra da una condizione, una dipendenza da una condizione generale dove la dipendenza psicologica spinge alla ricerca di un oggetto, senza il quale l'esistenza diventa priva di significato. Ed è su questa seconda parte che noi ci fermiamo un po' di più a riflettere. Ci sono delle caratteristiche comuni in tutte le dipendenze che diventano patologiche, sono quelle legate al bisogno di avere sempre più frequentemente il comportamento che ricerchiamo, di avere dei problemi se interrompiamo il nostro comportamento e in qualche modo dal perdere il controllo, il ritenere di poter smettere quando vogliamo, ma poi accorgerci che quando smettiamo con il comportamento che aneliamo abbiamo dei problemi anche di conseguenti, anche sensi di colpa per non riuscire a interromperlo. La compulsione è un'altra delle caratteristiche comuni a tutte le dipendenze anche di cui vi parlerò, cioè il doverlo mettere in atto il comportamento in modo ossessivo con una sensazione crescente di tensione che precede anche l'inizio delle attività. Il problema non c'è solo quando io sto facendo il comportamento patologico, ma anche quando mi sto preparando a farlo come se fossi affamato e avessi già, e voi lo siete, adesso si inizia a parlarvi di ottimi cibi, voi avrete la colina in bocca e questa è questa tensione che vi prepara già all'auto pranzo che vi aspetterà dopo a casa. e la persistenza del comportamento nonostante abbia delle condizioni negative. Ci sono dei sintomi fisici e ci sono invece dei sintomi sociali. Sintomi fisici e sociali sono entrambi riscontrabili anche all'interno di quelle che sono le dipendenze dalla rete. Dipendenze dalla rete che ovviamente sono ben diverse fra loro, ma che in realtà hanno anche delle forme che le collegano. C'è l'Internet Addiction Disorder che è stato specificato una prima volta nel 1995 nel DSM, come ci è stato detto poco fa, e in qualche modo ha dei sintomi già sottolineati che in qualche modo portano la persona a non riuscire più a staccarsi dalla rete. Ma questa dipendenza non è appunto da internet in generale, è da degli oggetti specifici che poi è possibile avere all'interno di internet. E quindi è una sola definizione ma che in realtà nasconde numerose forme di possibili dipendenze. Abbiamo cinque categorie principali, la dipendenza cybersessuale, quindi non è un caso, poi fra l'altro prima sentire dire dall'assessore che l'Italia è il paese in cui ci sono più affezionati a Badoo, insomma, in qualche modo, io ovviamente sono iscritto con un falso nome a Badoo, però è un sito di incontri, ma se non erro incontri, cioè non come Facebook, è un sito dove si mira a ottenere risultati maggiori, diciamo, rispetto a una sola relazione virtuale. E quindi la dipendenza cybersessuale siccome sarebbe interessante indagarla anche nel nostro paese, credo che darebbe dei risultati interessanti. La dipendenza da giochi di ruolo. Questi dei giochi di ruolo sono una cosa che sta crescendo in modo molto importante, sia nei giovani adulti che nei giovanissimi. Ci sono moltissimi giochi oggi a disposizione anche dei bimbi più piccoli, che in qualche modo riescono attraverso la rete a costruirsi dei sei alternativi, a costruirsi una vita parallela e quindi, come ci dice la Ferraris, a permettere al soggetto di vivere una sorta di sdoppiamento, intrappolato nel bisogno di uscire dalla propria vita quotidiana per trasformarsi nel personaggio virtuale, sul quale proietta tutti i suoi desideri e le sue illusioni. Ovviamente questo nel versante più patologico, quindi non nel versante, nella caratteristica delle normalità. C'è la dipendenza da relazioni virtuali, c'è l'eccesso di informazioni, già citato prima, la necessità di avere costantemente, di essere costantemente connessi, di avere costantemente informazioni, la social network addiction e la friendship addiction, una sorta di dipendenza da connessione, aggiornamento e controllo della propria pagina web, o la ricerca di nuove amicizie virtuali. C'è anche una forma di dipendenza che è legata a quante visualizzazioni ha avuto la cosa che ho postato, tant'è che ci sono dei software specifici che è possibile installare per togliere questa opzione, in qualche modo per proteggere l'utente, cioè io posso installare un software che mi toglie la possibilità di vedere quante persone hanno visualizzato il mio post, per togliermi l'ansia da questo problema specifico, da sapere ma quante persone stanno seguendo le cose che scrivo, quanti mi guardano, e quindi è molto legata a questo. C'è poi una dipendenza legata ai giochi, legata ai giochi, sia a quelli che non riguardano il denaro, come in questo caso i videogiochi, che possono diventare una vera e propria ossessione, che per quello che riguarda invece il denaro, la vincita del denaro. Il gioco d'azzardo online viene definito gioco d'azzardo ciò nel quale c'è una aleatorietà sul risultato, cioè il risultato dipende dalla fortuna e se c'è del denaro in paglio e io utilizzo del denaro per accedere. Quindi quando io uso del denaro per vincere denaro, questo per legge è gioco d'azzardo. E il gioco d'azzardo è molto diffuso anche fra i più giovani. Ci dice il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'indagine IPSAD 2013-2014, che una trentina, il 30% delle persone fra 15 e 24 anni ha giocato d'azzardo, 35% nel 2013-2014 ha giocato d'azzardo. E quindi è una percentuale importante. La maggior parte degli italiani gioca senza avere problemi, gioca senza patologia. Infatti 13 milioni di italiani l'ultimo anno hanno giocato senza avere alcun problema, ma oltre 2 milioni di italiani hanno giocato con un basso rischio e circa 900.000 italiani hanno giocato o con un rischio alto o con un gioco già problematico, già patologico. All'interno di questi troviamo purtroppo anche dei ragazzini e persone molto giovani. Non è un caso il fatto che i giochi d'azzardo online sono cresciuti in modo importante e ogni anno crescono i milioni di euro persi al gioco. Non quelli complessivamente giocati, cioè non quelli introdotti nel gioco, ma quelli persi, cioè quelli che non tornano indietro in vincita. Faccio un esempio, se io scommetto 100 euro online su una partita e perdo l'esempio sbagliato, io gioco online su una slot machine, per esempio, perché ci sono anche slot machine, se io gioco 100 euro e gioco e ne vinco 90, indietro io ho perso 10 euro. Questo dato è sui soldi persi, cioè su quanto ci si è impoveriti nel gioco d'azzardo online e nel 2015 ci sono stati 821 milioni di euro persi dagli italiani nel gioco d'azzardo online. La maggior parte di questi nei casino game, 328 milioni sono stati quindi persi in giochi al casino roulette, dadi, blackjack, i giochi del casino, che è possibile fare online, e 267 milioni nelle scommesse sportive. Questo sta crescendo moltissimo, le scommesse sportive stanno crescendo in modo importante soprattutto fra le persone più giovani, quindi è sicuramente un dato da tenere in forte considerazione. Complessivamente quanto è stato speso sul gioco delle scommesse sportive sono stati spesi 2,87 miliardi di euro, quindi i soldi introdotti nelle scommesse sono stati 2,87 miliardi di euro nel 2015. Vedete che la cifra sta crescendo in modo molto importante, questo ci permette di dire che è un fenomeno a tenere molto in considerazione anche perché fra gli studenti, i maschi, le scommesse sportive stanno prendendo piede veramente in modo forte, così come crescono i casino game e la loro spesa. Il CNR ci dice che rispetto agli studenti noi vediamo che circa il 44% degli studenti dai 15 ai 19 anni ha giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi e nonostante la legge lo vieti con chiarezza ha giocato il 43% dei 17 anni, il 40% dei 16 anni e il 36% dei 15 anni quindi per legge non potrebbero farlo di fatto lo fanno giocano soprattutto raramente ma c'è il 15% degli studenti che ha giocato più di 20 volte e giocano le femmine a gratte vinci lotto e supera lotto mentre i maschi a gratte vinci e scommesse sportive cose che vengono vendute nei negozi dagli esercenti ma che è possibile anche trovare online ovviamente tutto ciò per legge è solo per i maggiorenni però in realtà noi troviamo moltissime proposte online come queste dove tu puoi giocare non puoi vincere denaro perché sono aperte anche i ragazzini di pochi anni non puoi vincere però ti dicono congratulazioni avresti vinto tot euro se tu avessi davvero giocato denaro essendo tu minorenne non puoi giocarlo e ci sono delle proposte di gioco online tramite facebook ci sono delle pubblicità che ti dicono a un certo punto smettila di giocare da oggi si gioca con soldi veri connettiti ai nostri siti perché puoi davvero arricchirti e per questo tu puoi farlo attraverso gli smartphone a proposito puoi giocare alle carte puoi giocare alle scommesse al casino puoi giocare alle slot machine quindi in realtà quando noi parliamo di digitale e di gioco d'azzardo noi parliamo di cose che sono molto legate a tutto quello che noi possiamo fare di continuo durante questo momento voi potreste giocare a slot se volete col vostro smartphone se qualcuno urla improvvisamente lo becchiamo è quello che ha appena vinto potete farlo a messa in bagno a scuola ovunque vogliamo noi possiamo giocare d'azzardo 24 ore su 24 e ci sono dei soldi che ci aspettano aspettano solo noi ci sono dei bonus che ci vengono offerti bonus di benvenuto che se poi dopo uno va a vedere esattamente come funziona purtroppo c'è la fregatura ve lo dico così evitate di andare su questo sito per cercare di prendere il bonus perché in realtà ti raddoppiano i soldi che tu hai investito ma comunque ti chiedono di investire del denaro di iniziare a scommettere per fidelizzarti i minori in teoria non potrebbero giocare ma le cronache ci dicono che accade come nel caso di Declan che ha speso 8500 euro su un sito di poker online e suo padre se ne ha accorto solo troppo tardi il ragazzino a 12 anni ha preso carta di identità del padre il numero della carta di credito del padre si è iscritto e ha iniziato a giocare e a perdere è ovvio che se noi abbiamo pubblicità che ci dicono fai sapere ai tuoi amici che ti piace vincere e noi ti diamo 20 euro noi saremo portati a diffondere la bellezza del gioco online soprattutto se ce lo dicono dei grandi campioni del calcio se ce lo dice Totti se ce lo dice Buffon se ce lo dicono quelle del grande fratello comici apprezzati da tutti perché quello che ci dice la pubblicità sul gioco ce lo dice con chiarezza Klaus Davi che il gioco d'azzardo è qualcosa di rassicurante non è niente di male e tutti possono praticarlo i testimonial famosi conosciuti dai ragazzini ovviamente hanno questo fine tutti possono farlo perché non dovresti farlo tu ed è una cultura che si diffonde fra i più piccoli anche quando non è azzardo perché vi dicevo prima che il gioco d'azzardo è quello in cui tu vinci denaro ma devi metterci del denaro e allora abbiamo tante simpatiche proposte come 2200 applicazioni per smartphone di slot machine una ventina di queste destinate ai bambini dai 4 agli 8 anni se voi in un ipad inserite le parole chiave slot machine e bambini che sembra uno simoro in realtà avrete una ventina di applicazioni che potete scaricare come quella del lupo che è una slot dove dice attenzione il gioco è fatto soprattutto per bambini dai 4 8 anni la sua grafica è colorata bassa difficoltà e per un pubblico giovane non è adatto a un pubblico adulto quindi per una volta sono loro che dicono papà stai lontano che questa roba per me non è adatta per te finalmente hanno loro maggiori possibilità con il lupo con la pecorella con il coniglietto sono tutte slot machine per bambini e ovviamente slot machine che preparano questi bimbi a crescere in un mondo in cui il gioco d'azzardo sarà qualcosa di molto familiare quindi quali sono i consigli per affrontare il rapporto fra bambini e tecnologia con tutte queste insidie beh c'è un centro che si occupa dei bambini scomparsi un centro americano fondato dal congresso degli Stati Uniti che dà dieci consigli dieci regole per approcciare gli strumenti degli smartphone con i bimbi dicendo ai genitori siete voi responsabili della sicurezza dei vostri figli più ne sapete meglio riuscirete a proteggerli e quali sono le cose che dice il quando non c'è un'età precisa ma date al vostro figlio uno smartphone se ne ha davvero bisogno se è invece già protetto dagli adulti non gli serve uno smartphone vi dà anche la possibilità di sapere dove si trova quindi offre anche degli strumenti utili è importante che lui ne capisca l'importanza e dovete spiegargli che è uno strumento per il quale deve avere una responsabilità stabilite assieme a lui dove e perché può usare il telefono ovviamente ci sono dei luoghi che non sono idonei per l'utilizzo dello smartphone le app ce ne sono alcune che possono tornare utili anche a voi genitori per controllare ciò che fa vostro figlio e può essere un terreno di confronto di divertimento e di sicurezza più ne sapete meglio riuscirete a proteggerlo la bolletta la traduzione della bolletta noi la chiameremo diversamente però controllate accuratamente sinceratevi che non sia stato contattato dai stranei spiegate loro che le immagini che serve un rispetto nel postare le immagini e stabilite con lui delle punizioni nel caso in cui dovesse condividere foto messaggi altrui che non dovevano diventare pubblici le password non devono essere date a nessuno le chat permettono di scambiare messaggi di chiamare ma non vanno mai accettati messaggi inviati da sconosciuti e cercate di stabilire qual è il modello di smartphone migliore per lui siete voi responsabili della sua sicurezza più ne sapete meglio riuscirete a proteggerlo al di là delle dieci regole alcune più o meno condivisibili però il messaggio è questo è uno strumento e come tale più lo conoscete e più riuscirete a farlo usare nel modo migliore anche al vostro figlio arrivo già alle conclusioni quindi immagino un sollievo generale sono regole di buon senso ci dice Michele Facci che ha scritto un libro generazione cloud essere genitore ai tempi di smartphone e tablet regole di buon senso ma spesso è proprio il buon senso delle madri e dei padri che manca la maggior parte delle famiglie fa finta di non sapere che l'uso della tecnologia da parte dei bimbi ha delle criticità oppure è bloccata dalla paura e quelli che si informano sono davvero pochi la tecnologia digitale e la rete sono strumenti e come tutti gli strumenti possono essere negativi o positivi ci sono effetti positivi che ha ricordato Cesare prima quando diceva se un bimbo ha grandi difficoltà a stare con gli altri un bimbo ansioso che si richiude per esempio in camera grazie alla rete ha grandi possibilità ci sono molti studi che ci dicono questo ci sono anche effetti positivi che in qualche modo ci permettono di capire che anche le relazioni fatte con internet possono aiutare delle persone su certi piani quindi la rete non è negativa gli strumenti digitali non sono negativi di per sé impedire ai figli la tecnologia può essere la soluzione ovviamente no dimenticheremmo che i pericoli derivano sostanzialmente dalla negligenza o dai timori eccessivi la paura è un sentimento reazionario che affonda le radici nella parte peggiore di noi scriveva Stephen King e il denominatore comune a entrambe le attitudini è l'ignoranza cioè il non conoscere questi strumenti o temendolo e limitandolo fortemente o trattandolo come se fosse una babysitter per i bambini l'importante è far capire al proprio figlio cos'è uno smartphone raccontargli la sua importanza condividere o addirittura stendere delle regole sul dove può adoperarlo e dove invece non può farlo partendo però dal principio che la tecnologia è un dato di fatto e i genitori devono conoscerla perché può essere uno strumento straordinario se usata con intelligenza vi ringrazio per l'attenzione bene grazie Matteo ci hai inquietato e poi ci hai dato anche le regole quindi insomma hai fatto proprio una bella relazione che ha messo a fuoco tante cose che meriterebbero certamente di essere prese discusse di battute stavo pensando però alla tua battuta sul treno come le ferrovie dello Stato che partono con un po' di ritardo e arrivano con tanto ritardo però siamo arrivati perfetti perché il congresso doveva finire se voi prendete il programma c'è scritto ore 14 conclusioni del convegno no? c'era tre quarti d'ora di dibattito se volete possiamo restare a fare tre quarti d'ora di dibattito ma penso che abbiate un po' di fame e penso che di cose stamattina ne siano state dette tante abbiamo sentito la voce di due assessore che da un punto di vista istituzionale hanno dato un insieme di riferimenti estremamente interessanti per quanto riguarda come si muovono come si muove il comune di Reggio Emilia ma in generale come si possono muovere le istituzioni che ovviamente non possono ignorare lo sviluppo della tecnologia abbiamo sentito e questo forse ci ha aperto degli altri orizzonti quali possono essere le prospettive di sviluppo partendo da tutte le ricadute che sul mondo del lavoro e poi sul nostro privato potrà avere in un futuro che non è un futuro lontanissimo penso sia un futuro prossimo per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie le ricadute che queste avranno su di noi sulle nostre famiglie sulle nostre relazioni abbiamo ascoltato delle cose in questo importantissimo segmento che è il segmento della scuola con tutte le possibilità con tutte le criticità con tutte le richieste di far avanzare le nostre capacità di comprendere i fenomeni e quindi modificare progressivamente anche i nostri punti di vista ma senza perdere i valori sani che ovviamente ci vengono dalla tradizione abbiamo avuto uno spaccato di come i genitori vivono come i genitori si rappresentano questa importante ricerca di cui abbiamo visto i dati che aprirebbe ovviamente delle altre riflessioni perché come tutte le ricerche pilota possono poi essere proseguite mi veniva in mente per esempio che la loro ricerca potrebbe poi essere proseguita perché sarebbe interessante mettere a confronto quello che percepiscono i genitori ma quello che percepiscono i figli per vedere quanto i genitori capiscono i figli o quanti genitori vedono quello che desiderano ma questo naturalmente è un importante punto di vista che loro ci hanno messo in mano e via via siamo transitati con le ultime comunicazioni siamo arrivati alle questioni della dipendenza e fino appunto poi anche a delle forme patologiche la mattina è stata estremamente ricca credo che una buona conclusione del convegno sarebbe come da programma stata una conclusione a seguito di un po' di dibattito per sentire che idee vi sono venute a questo punto decidiamo noi avete delle idee avete voglia di discutere avete qualche domanda da fare giustamente se siete d'accordo non darei per ufficialmente chiuso il convegno perché sono le due prendiamoci qualche minuto se qualche d'uno ha piacere di dire qualcosa se ci prendiamo qualche minuto credo che riusciamo ancora a resistere con tutti i complimenti che vi possiamo fare perché avete tenuto un grado di attenzione eccellente per un numero di ore così elevato quindi professoressa buone speranze per il futuro almeno per noi quindi se qualche d'uno ha piacere di condividere qualche cosa direi anche se i relatori hanno piacere di dare qualche feedback non solo sulla loro relazione ma sul senso del convegno direi prendiamoci proprio ancora qualche minuto prima di concludere ufficialmente quindi la parola a voi se qualche d'uno vuole dire qualcosa la parola a loro se volete dire qualcosa adesso io taccio troppo stanchi per rompere il ghiaccio un signore mi faceva scenno che è ora di chiudere ok è arrivato il suo non verbale grazie è arrivato è arrivato il suo non verbale molto bene sembra allora che dalla platea vengano questi segnali da parte vostra Matteo stesso segno la parte vostra le giovani un ultimo flash no niente allora vi ringraziamo siete stati veramente pazienti ringraziamo tutti i relatori ovviamente come istituto Adler che ha partecipato insieme alla Papa Giovanni insieme all'università a costruire questo momento credo che possiamo insomma ringraziarci ringraziarci tra noi perché ogni volta che si creano degli eventi e si ha la possibilità di parlare tra agenzie che operano sul territorio sono sempre momenti arricchenti grazie a voi che siete intervenuti e al prossimo convegno e buon fine settimana bene grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri